Sono Simone Brancozzi, commercialista e consulente aziendale. Oggi, cari colleghi, vi voglio parlare di una possibilità che finalmente il legislatore ha dato a noi per poter aumentare il nostro fatturato. Voi sapete, è stata introdotta l'IRI, l'imposta che praticamente omonigeizza, cioè rende uniforme l'imposizione sui redditi d'impresa al 24%, anche per le ditte individuali in ordinaria. Cioè, che cosa vuol dire? Che un imprenditore individuale, che oggi è in semplificata, ad esempio, passa in contabilità ordinaria, può tassare il proprio reddito al netto dei propri compensi, dei propri prelevamenti al 24%. Voi capite che per i redditi più alti, dove l'aliquota marginale è molto alta, oppure per gli imprenditori che pur avendo redditi bassi, partono da redditi di altri redditi, quindi fabbricati, quindi lavoro dipendente, non lo so, altri redditi che loro percepiscono, capitale, redditi diversi. Quindi hanno una base di reddito alta su cui si somma il reddito d'impresa, capite che è una grande opportunità, perché si elude il fatto di non pagare l'imposta progressiva. Per cui, cosa dovremmo fare noi da un punto di vista deontologico? Dovremmo chiamare il cliente e dire, guarda, tu oggi sei in semplificata, domani c'è questo regime che ci permette di avere un grande risparmio per legge, un grande risparmio d'imposta, bisogna passare in ordinaria. Chiaramente questo ha un costo e qui bisogna parlare dei costi della contabilità. Prima di fare questo ragionamento però, bisogna fare un ragionamento all'interno degli studi e dire, io ho 10 clienti che possono passare dalla semplificata all'ordinaria, la mia organizzazione di studio si può permettere questo aggravio di costo in termini di costo di tempo che noi utilizzeremo in più, perché l'ordinaria ha bisogno della prima nota, ha bisogno di essere riconciliata, ha bisogno di essere spuntata, ha bisogno che il cliente vada seguito un pochino di più, perché poi c'è da contabilizzare le banche, c'è da contabilizzare tutte le movimentazioni finanziarie rispetto alla semplificata. Quindi qualcuno di noi potrebbe dire, ma me chi cavolo me lo fa fare, io li faccio rimanere in semplificata, così non devo mettere altri dipendenti e non ho dei problemi in studio. Bene, e ti perdi l'occasione di aumentare i redditi del tuo studio, il ricavio del tuo studio, quindi la redditività del cliente. Quale potrebbe essere la soluzione che oggi ti propongo? L'esternalizzazione. Noi abbiamo una struttura che ci permette con un costo variabile, quindi un tot a riga giornale, quindi si stampano le righe giornale generate dalla contabilità e uno paga quantità per prezzo, 100 righe giornale per il prezzo e hai il tuo costo, quindi la contabilità ordinaria diventa un costo variabile, quindi a te costa X, la rivendi al cliente Y, in studio va via la parte dell'immissione, che è quella a basso valore aggiunto, rimane la parte ad alto valore aggiunto, cioè la tua collaboratrice, il tuo collaboratore di studio invece di fare diversi affornitori oppure di fare banca cliente, faranno la stampa del bilancio, faranno tax planning, faranno analisi di bilancio, chiameranno il cliente, faranno benchmark, avranno più colloqui con il cliente, quindi si lavorerà più sul cliente che a quel punto non dirà il mio commercialista è caro, ma dirà il mio commercialista mi segue e sposterà la sua attenzione dal prezzo all'altro, quindi se oggi ti stai ponendo il problema come poter gestire l'aggravio di lavoro, l'aggravio di ore per far passare i clienti semplificati in ordinaria, per permetterle loro di usufruire del liri, io ti do la soluzione.